Si è svolto questa mattina in municipio un incontro con le associazioni economiche di categoria per presentare il piano dei lavori che l'ASET ha programmato nel centro storico e che riguarda la sostituzione delle condutture dell'acquedotto comunale. Erano presenti gli assessori ai lavori pubblici Marco Paolini, all'attività produttive Carla Cecchetelli e l'ingegner Matteo Lucertini di ASET. Paolini ha ricordato come questo intervento di bonifica sia necessario e non più rinviabile a causa delle perdite che si registrano in rete e dei conseguenti contenziosi che sorgono con la società partecipata. Ha sottolineato inoltre che l'opera consentirà di riqualificare il centro grazie al rifacimento della pavimentazione. L'erogazione dell'acqua non sarà mai interrotta e gli accessi ai negozi verranno garantiti mediante tavole di passaggio. Attenzione verrà posta anche al problema delle polveri e delle operazioni di scarico merci. Occorrerà inoltre trovare un'altra destinazione temporanea sia per gli obbisti dell'antiquariato, in particolare nella seconda domenica del mese di maggio, sia per alcuni ambulanti di piazza 20 settembre. Riguardano alcune bancarelle che sono proprio lato Corso Matteotti, quindi a queste bancarelle dovrà essere ritrovata una giusta collocazione per non poi danneggiarle anche per l'attività del commercio. Si sta facendo di tutto per cercare di anche di alleare e di creare meno disagio possibile sia i cittadini che gli operatori economici perché come sappiamo sono in forte crisi e debbono logicamente lavorare. Dalle associazioni è venuto l'invito a sfruttare i giorni di bel tempo rinforzando la mano d'opera o magari allungando l'orario di lavoro su più turni. Il piano dell'intervento, che comporta una spesa di 450 mila euro, prevede due grandi stralci. Il primo, che riguarderà Corso Matteotti e Via Diecenti, sarà effettuato entro il prossimo 30 giugno, mentre il secondo, che riguarderà Piazza Costanzi e Via Cavour, sarà cantierabile in autunno, probabilmente dopo metà settembre. In dettaglio, il primo stralcio vedrà a sua volta un'esecuzione per settori. Intanto i lavori iniziano subito dopo Pasqua, quindi il 13 aprile, e in questo primo stralcio di lavori si completeranno al 30 giugno, insomma probabilmente anche prima, diciamo entro giugno. Il primo stralcio di lavori interessa Corso Matteotti da Via Arco d'Augusto, chiaramente a Via Garibaldi, quindi tutto quel tratto. E poi a settembre, dal 30 settembre al 30 novembre, si faranno le aree di Piazza Costanzi e Via Cavour. I lavori chiaramente interessano la rete acquedottistica, quindi prevederanno uno scasso, la posa in opera della nuova tubazione, il riempimento, la soletta e poi in seguito la selciatura. Nei primi 15 giorni fino al 27 aprile si partirà da Via Arco d'Augusto a Via Montevecchio, subito dopo da Via Montevecchio a Via De Pili, e infine l'ultima parte del corso fino a Via Garibaldi. Se fin dall'inizio dovessero nascere dei problemi, successivi interventi saranno rimandati a dopo l'estate. L'obiettivo è una riqualificazione, sul cantiere vi saranno sempre i responsabili, quindi qualsiasi richiesta verrà presa in considerazione per alleviare eventuali problemi.